Piano rifiuti e diritto allo studio sul tavolo della Giunta regionale Toscana, raccolta differenziata al 70% entro il 2020 e taglio di 195.000 tonnellate ai rifiuti che arrivano dalle altre regioni in Toscana. Sono gli obiettivi di due delibere presentate in un briefing dal presidente della regione toscana Enrico Rossi, che puntano ad aumentare in tre anni di 300.000 tonnellate la raccolta di organico e estendere il porta a porta alla raccolta di prossimità con 30 milioni destinati agliato e con l'impiego dell'ecotassa. È un modo per rispettare quella che viene chiamata un po' il quanto più possibile la piramide dell'economia circolare così come ci viene presentata nell'ambito dei rifiuti da parte dell'Unione Europea. Nel frattempo la Toscana punta a favorire la realizzazione degli impianti di biodigestione e ad aumentare anche la raccolta di vetro e carta, coinvolgendo anche l'industria della carta che impiega ogni anno oltre un milione di tonnellate di carta da macero. Sono due atti che vogliono tendere a dare una spinta molto forte, prima di tutto sull'aumento della raccolta differenziata, che nella nostra regione è ancora troppo basso per gli obiettivi ambiziosi che ci siamo dati. Al 2020 vogliamo arrivare al 70%, siamo al 51%, dobbiamo imprimere un'accelerazione e lo facciamo mettendo in campo risorse, sono 30 milioni fin da ora, ma poi vorremmo valutare con prossimi atti se istituire anche qualche forma sistematica di incentivazione ai comuni. Nel corso del briefing sono state presentate anche due delibere con cui da un lato la regione finanzia voucher formativi nell'ambito di Industria 4.0 per un massimo di 5.000 euro per gli imprenditori e 3.000 per i professionisti e dall'altro si impegna a derogare i contributi regionali per il diritto allo studio a 20.000 famiglie entro settembre. Riguarderà gli studenti delle scuole superiori e i fondi statali direttamente saranno accreditati su una carta post e pay, quindi una sorta di carta dello studente potranno essere usati per le finalità appunto di acquisto di materiale didattico, di sussidi, di libri e così via.